Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, siete in diretta 7.30 del mattino, ovviamente un saluto anche a chi ci segue in altri orari nelle repliche 7.30 del mattino, dicevo, per guardare, sfogliare i quotidiani, il messaggero, il Corriere Adriatico ed il resto del Carlino, che come sempre hanno gli inserti dedicati alla provincia di Peso Urbino e quindi alle notizie che ci interessano e che tra poco vedremo. Adesso invece subito il Santo del Giorno con la Santa di oggi, oggi è una Santa importante perché stiamo parlando niente meno che di Santa Brigida di Svezia, che proviene da una nobile famiglia che ha dato alla Svezia molti re, è nata nel 1303, sposa a 15 anni di un principe dal quale ebbe otto figli e fondò un ordine religioso, visse molto a Roma, ma muore a Roma infatti nel 1373 pronunciando le stesse parole di Gesù sulla croce, nelle tue mani Signore, rimetto il mio spirito. Queste le parole di Santa Brigida, il sole sotto le 5.75 tramonterà alle 20.43. Il tempo per oggi avremo un cielo sereno o poco nuvoloso qui sulla costa mentre cambia e lo vedremo tra un istante nell'entroterra. La temperatura è di 24 gradi ma è inutile dirlo, salirà abbondantemente di una decina di gradi nel corso della giornata. Dicevo il tempo peggiorerà, vedete, nella parte interna della regione, quindi sui crinali appenninici, rovescio temporali sparsi, sono previsti sui rilievi durante le ore più calde della giornata. Localmente i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità. Poi l'attenuazione di questa copertura dalla serata, il mare sarà quasi calmo, al più poco mosso. Per la giornata di domani ancora residua instabilità nell'entroterra, tutto sommato cielo variabile invece lungo la costa, le temperature sono in lieve diminuzione. Poi sabato, ancora sabato cielo sereno, poco nuvoloso con precipitazioni che potrebbero esserci nel pomeriggio nel settore montano e collinare della regione. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Il tempo di domenica e lunedì invece sarà ancora caratterizzato da condizioni di tempo instabile, soprattutto il pomeriggio con temperature in diminuzione. Allora ovviamente in primo piano c'è come sempre anche oggi il delitto, l'orribile delitto di Sant'Angelo in Vado. Tutti i giornali si occupano di questo, anche perché ieri c'è stata una conferenza stampa dei carabinieri a Pesaro che hanno ricostruito un po' le fasi di questo delitto. Bagno nel fiume dopo aver ucciso, questo è il titolo del messaggero, il messaggero la pagina delle Marche. Ricostruito dai carabinieri l'omicidio di Ismaele Lulli di 17 anni, prelevato, stordito e poi sgozzato. Tutto si è consumato in 45 minuti. I due albanesi hanno poi deciso di tuffarsi in acqua a parchiule. Il ventenne ha gettato via gli indumenti e ha guidato in mutande. Questi sono allora la vittima, Ismaele, eccola qui, 17 anni. Questi sono invece i due fermati che si trovano in carcere. Da sinistra Mario Mema di 19 anni e Igli Meta di 20 anni. Igli che chiede perdono dopo aver confessato durante l'interrogatorio. Una confessione piena, ha detto il suo avvocato. Il ventenne di Urbani ha fermato per l'omicidio di Ismaele Lulli. Lulli ha chiesto ieri un interrogatorio in carcere con il PM Irene Lilliu. L'avvocato Salvatore Asole del Foro di Urbino ha incontrato il suo assistito. Gli ho parlato un po' da padre di famiglia e un po' da legale, facendogli capire quali potevano essere gli scenari a luce degli elementi raccolti dall'accusa. Si è assunto la responsabilità e ci tiene a dire che da parte sua non c'era nessuna volontà di uccidere. Voleva dare una lezione. Sapete, il movente è quello della gelosia, quindi è tutto lì che è accaduto ed è per quello che questo giovane ha ucciso quasi un suo coetaneo. Voleva dargli una lezione, questo è quello che ha detto al suo avvocato, una lezione. La situazione poi gli è sfuggita di mano, sa quello che ha fatto ma non è una belva, dice l'avvocato. Quel vuoto negli sguardi è un paese sconvolto dall'orrore. Oggi alle 5 del pomeriggio i funerali di Ismaele in cattedrale. Monsignor Tonti, familiari distrutti, non siamo preparati ad un male così. Dunque i funerali, il funerale si terrà in una parrocchia, Santa Maria Extramuros, vado a memoria, però dovrebbero essere, no dovrebbero, sono lì alle 5 del pomeriggio, che tra l'altro è una chiesa che sta a poche decine di metri dall'abitazione dove Ismaele abitava con la sua mamma. Andiamo sulla pagina del resto del Carlino. Il resto del Carlino racconta, gli ho tirato un calcio ed un pugno, poi la coltellata finale alla gola. Igli ha confessato dopo 8 ore di interrogatorio, ho fatto tutto da solo, ha riferito anche il luogo dove è stata gettata via l'arma, cioè il coltello, arma che oggi sarà ritrovata. Non c'è per il momento l'accusa di premeditazione. L'ex compagno di Mario, uno dei due fermati, racconta perché dice, io lo conosco bene, questo ragazzo di 18 anni, di Monte Felcino, conosco bene Mario Mema, il 19enne di Urbagna che i carabinieri hanno fermato l'altro ieri appunto per questo omicidio. E dice, Mario, un ragazzo normalissimo, l'anno scorso è stato bocciato, ma niente di più, niente di meno di quello che, né peggio né meglio di molti altri compagni, di altri studenti, niente politica e niente discorsi sulla religione. Poi, sull'altra pagina del resto del Carlino, il racconto delle fasi successive al delitto, si sono tolti il sangue di Ismaele facendo il bagno nel fiume Metauro, dopo l'omicidio 50 km in auto per gettare via i vestiti sporchi. Il colonnello sommese ha detto e ha parlato in conferenza di questo atteggiamento di Igli, questo ragazzo che vedete qua a sinistra, di Igli che dice ma cosa avrò mai fatto? Cosa avrò mai fatto? Ha sgozzato una persona e poi dice ma che cosa avrò mai fatto? Sembrava, dice ancora il colonnello, che tutto fosse come un videogioco. Questi videogiochi che sono violentissimi, chi ha dei figli adolescenti sa e mi capisce bene, sono dei giochi violenti, chi gioca con la Playstation, le Xbox, questi giochi dove si spara, si uccide, si sgozza, così come se niente fosse e vivono in una realtà ore e ore e ore completamente isolati dal mondo reale. E poi quando ci si trova a uno scatto d'ira, a uno scatto come quello che ha fatto, perché poi ha detto ho perso il controllo, ho perso la situazione, ecco in quei momenti è come se avessero un joystick al posto del coltello, ma è un coltello vero che poi fa quello che ha fatto. E questa è la situazione in cui spesso si ritrovano i nostri ragazzi. Giorgia Meloni, la politica, la Meloni dice che devono stare in carcere, pena esemplare per i due albanesi che hanno legato col nastro adesivo sgozzato e quasi decapitato il 17enne Ismaele, c'è un'emergenza sicurezza senza precedenti e che delinquenti, stranieri o italiani che siano, insomma si sentono liberi di agire indisturbati per gli svuotacarceri. Tanto dicono in sostanza si sta poco in galera e poi si esce. Invece dice la Meloni devono marcirci, devono marcire in galera. I genitori di Mario, anche qui tragedia nella tragedia perché se leggerete poi l'intervista che i colleghi del Carlino hanno fatto a questi due genitori che immagino stiano vivendo ore disperate, dice nostro figlio non ha fatto niente, non ha ucciso, ha solo accompagnato i due ragazzi in macchina. Si chiamano Gani e Vera Mema, sono i genitori di Mario, l'albanese fermato per l'omicidio volontario di Ismaele, sono in Italia dal 1999, lui fa il saldatore e l'è invece operaio in fabbrica. Tra l'altro una famiglia già segnata da un lutto perché hanno perso in un incidente stradale alcuni anni fa già un figlio che è morto e ora hanno un figlio in carcere con l'accusa di aver ammazzato un 17enne. Il killer in fuga voleva imbarcarsi a Bari per l'Albania, è stato rintracciato a Montemarciano, dai carabinieri la fuga è stata una fuga complicata. Una tragedia che svela l'integrazione che non c'è. Il sindaco di Sant'Angelo Invado, Luzzi, dice non nascondiamo la realtà. Ci sono comunità che hanno mantenuto codici e mentalità non compatibili con i nostri valori, le nostre abitudini, ma questo addirittura vale anche da regione a regione. Adesso parliamoci chiaramente, insomma, quante volte si sentono anche lamentarsi gente del centro Italia con quelli del sud Italia perché loro magari hanno abitudini che noi non abbiamo, così come magari noi con quelli del nord o quelli del nord con noi. Insomma, figuriamoci quindi con paesi che hanno veramente culture completamente diverse. Insomma, questa è la situazione, vedete le fotografie a destra alcuni abitanti di Sant'Angelo Invado, alcuni vadesi che volevano farsi giustizia da soli. Quando uno degli arrestati è uscito dalla caserma, si sono piombati addosso a quest'uomo, sono stati fermati ovviamente dai militari. E di qua invece a sinistra l'immagine, chiameremmo backstage, un dietro le quinte della conferenza di ieri che molte televisioni, anche nazionali, hanno trasmesso in diretta, compresa la nostra, compresa Fano TV, conferenza stampa che chi ha potuto seguirla attraverso la televisione, attraverso i computer, i telefonini, avrà seguito con attenzione. Ismaele oggi invece c'è il lutto cittadino, oggi ci sono i funerali, l'esequio è con l'altoparlante, Sant'Angelo dice addio ad un ragazzo sfortunato, ieri sera invece c'è stata una fiaccolata. Adesso apriamo la pagina di Fano invece del resto del carino, chiudiamo l'argomento delitto di Sant'Angelo e vediamo quali sono velocemente le altre notizie. Allora, la cronaca, un profugo che ha rischiato di annegare, è grave, è stato visto galleggiare a testa in giù, salvato da un medico e dal 118, un 22enne nigeriano ospite nella struttura a Belgato. Poi un carabiniere che è stato aggredito da un tunisino ubriaco, il luogotenente Gino Procida, all'ospedale con 30 giorni di prognosi. E ancora, il Duce ordinò Fate Metauriglia, Metauriglia è una frazione di Fano, si trova alle porte della città, nella parte sud per chi viene da Ancona, da Senigallia. La frazione nata sotto il fascismo ricorda la sua storia dalla bonifica delle paludi alla comunità di oggi che appunto si racconta, filmate letture di poesie, Mussolini diede ai più poveri, terre della contessa Saladini. La pagina di Fano del Corriere Adriatico si occupa di burocrazia, burocrazia che uccide l'animazione, ostacoli infatti per gli esercenti che organizzano musica dal vivo, non viene rinnovata la delibera deroga. Il sindaco, dunque intanto scusate, sotto a Fano manca ancora un regolamento che d'estate elevi a certe condizioni i decibel ammessi, il metro di misura del suono. Il sindaco incontra gli operatori in rivolta massimo serie, oggi pomeriggio alle 15 in programma un incontro nella Sala della Concordia con alcuni componenti dei comitati del Centro Storico del Lido e della Sassonia, questo appuntamento sarà l'occasione per confrontarsi sugli eventi della programmazione estiva. E a proposito di eventi, il Carnevale lo promuoveremo meglio, assicurano, il sindaco ai carristi, si impegna a reperire altri fondi statali, al posto dell'edizione estiva la festa del tesseramento. Cuore dedicato a Marotta, addio a Paolo Belia, 71 anni, figura di spicco del Comitato Pro Marotta Unite, morto per un'emorragia interna, breve si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico, aveva Marotta nel cuore e per la città da quando si era trasferito dall'Umbria, era sempre in prima linea. Aumentano le dipendenze, parliamo di droghe, i più esposti a droghe ed alcol sono i disoccupati, un fenomeno che è nascosto. Poi ancora, l'acqua, l'acqua con questi giorni di sole, di siccità, l'acqua basta solamente per 20 giorni, se perdurano gran caldo e assenza di piogge va in crisi. L'approvvigionamento di Pesaro e Fano, Marche Multiservizi illustra ai sindaci e a lato il piano da 400 milioni per riorganizzare le fonti, i comuni invitati a razionare i consumi in caso di emergenza sia per il Pozzo del Burano, ma speriamo, come abbiamo visto in apertura della nostra segna stampa, che insomma dovrebbe piovere all'interno per qualche giorno, insomma anche se non in maniera duratura e continuativa, però insomma speriamo che questo possa servire in qualche modo. Tenta una rapina, siamo sul messaggero di Pesaro, tenta una rapina al supermarket, la cassiera lo fa scappare, fallisce il colpo, un po' troppo maldestro in via Luca della Robbia a Pesaro. Poi ancora sul quotidiano romano, che qui la cronaca con il racconto dell'omicidio di Sant'Angelo Invado e poi la pagina di Fano per chiudere, commercianti e giunta, ultime prove di pace, il vice sindaco Marchegiani dice la città è viva e gli eventi aumentano. Certi giudizi sono difficili invece da comprendere. Droga killer e caccia al pusher che ha venduto la dose fatale di eroina ad un 33enne di Marotta, padre di una bimba di 3 anni. L'uomo è stato trovato nella serata di lunedì in un appartamento del centro di Fano, con lui un amico, un fanese di 44 anni, con cui avrebbe condiviso la sostanza stupefacente acquistata poco prima nella zona della stazione di Fano. E a Sant'Orso torna la festa della gluppa. A Sant'Orso si mangia bene con la gluppa o senza gluppa, si brinde, si balla e ci si diverte per quattro serate di seguito, a partire da oggi alle 19.30 nel centro commerciale del quartiere. Ed è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il Tg Occhio alla Notizia. Arrivederci.